Tre giorni di festa all'insegna dello sport, dell'arte, dell'eno-gastronomia e soprattutto del divertimento. Questa mattina la presentazione dell'edizione 2024 di Art Bike & Run, l'appuntamento al via dal 17 al 19 maggio a Fossacesia Marina. Si tratta di la quarta edizione di Art Bike & Run Plus Wine, quindi già dal nome identifichiamo c'è l'arte, c'è la bicicletta, c'è la pedalata, poi si mangia e si beve. Questo in sintesi, però è un appuntamento anche particolarmente, culturalmente importante perché quest'anno all'interno dell'Orba Kerrani, il 18 di maggio, inaugureremo i primi 200 chilometri percorsi ciclabili che vanno dai due cimiteri di Ortona e di Torino di Sangro, cimiteri di Guerra, in un circuito che arriva a Pizzo Ferrato sulle tracce della linea Gustaf, che è stata la linea che ha caratterizzato finalmente la vittoria degli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Perché quest'anno? Perché è l'ottantesimo dello sfondamento della linea Gustaf e quindi è un momento importante. In questo, per questo, abbiamo anche avviato una collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, verrà in quel giorno giù a realizzare un cortometraggio artistico che verrà poi successivamente, verso settembre-ottobre, presentato assieme alle altre iniziative. Questo è un pezzo, ma poi sempre di più c'è un coinvolgimento del territorio, perché assieme all'Accademia c'è l'Istituto Agrario e Scerni, ci sono le scuole, ci saranno il 17-500 bambini che verranno a vivere questa manifestazione e poi, è chiaro, ci sta per gli adulti la ciclo pedalata, dove con tante tappe si possono degustare i prodotti del territorio e nel frattempo pedalare su una meravigliosa costa di Trabocchi, ci sarà Suns Run, che è una corsa sempre amatoriale, serale, che realizziamo, Trabocchi Game, che è un gioco lungo le colline della costa di Trabocchi, dove si deve arrivare ad indovinare una serie di elementi per vincere poi, sempre a livello amatoriale, un pacco dono sostanzialmente. Quindi un momento di convivenza comune del territorio, di crescita del territorio attorno al tema del cicloturismo e attorno al tema del godere in maniera soffice e in maniera attiva del territorio. In estrema sintesi questo.